Sono quattro liste alla Camera e tre al Senato le escluse dalla Commissione elettorale della Corte d'Appello dell'Abruzzo per le elezioni politiche del 4 marzo per la Camera dei Deputati. Secondo quanto riporta l'Ansa si tratta di Democrazia Cristiana, Destre Unite, Forconi, Popolo per la Costituzione, Blocco Nazionale per la Libertà e dieci volte meglio per la Camera e per il Senato, Sinistra, Rivoluzionari, Destre Unite, Forconi e Lista del Popolo in Groia. Tutti avranno la possibilità di fare ricorso entro le prossime 48 ore. Nel frattempo il giudice del Tribunale Civile dell'Aquila, Sessione Diritti della Persona, si è riservato sul ricorso per incostituzionalità contro la nuova legge elettorale Rosatellum bis. Il ricorso è stato presentato da Stefano Moretti, presidente dell'Osservatorio Antimafia Regione Abruzzo e di Alternativa Libera Vasto. Ieri invece il Tribunale di Firenze aveva rigettato un analogo ricorso contro il Rosatellum, mentre il 21 febbraio sarà il Tribunale di Roma ad esprimersi sul terzo e ultimo ricorso contro il Rosatellum Nel frattempo sale il livello della polemica politica per una campagna elettorale ormai entrata nel vivo. In particolare sotto attacco è la candidatura del presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, capolista al Senato nel listino plurinominale del PD che ha detto di proporsi come il nuovo Remo Gasperi e di voler portare l'Abruzzo al governo dell'Italia. Per Mauro Febbo di Forza Italia D'Alfonso, se intende fare campagna elettorale, deve svolgerla come libero cittadino e come tutti gli altri candidati con i suoi personali strumenti e risorse e non utilizzando la cosa pubblica e i soldi dei cittadini abruzzesi contribuenti, invitando quindi il governatore già da subito alle dimissioni. Critica D'Alfonso anche da potere al popolo e che con Maurizio Acerbo commenta. D'Alfonso fugge a Roma per nascondere il suo fallimento, la sua è stata la peggiore giunta della storia di questa regione. Come suo solito D'Alfonso rilancia con nuove mirabili promesse autonominandosi futuro ministro. Critico verso D'Alfonso anche il Movimento 5 Stelle che sottolinea come durante questa campagna elettorale la regione sia sostanzialmente bloccata. Ci ha detto che candida l'Abruzzo al Senato della Repubblica, in realtà candida la sua persona al Senato della Repubblica. Se intende fare il senatore della Repubblica, liberasse questa regione, tanto i risultati che ha ottenuto negli ultimi tre anni sono pessimi. Si è candidato al Senato e si è candidato ad essere da quello che dice lui un ministro dell'inciucio perché il centrosinistra non ha nessuna possibilità di vincere queste elezioni. Ci sarà un tracollo probabile da quello che dicono i sondaggi e quindi se lui vuole fare il ministro evidentemente già si sta preparando per fare il ministro dell'inciucio.